Un lotto del pesto 100% vegetale prodotto da bifi è stato richiamato dai supermercati in seguito a un avviso del Ministero della Salute. Il richiamo è stato motivato dal fatto che il pesto bifi potrebbe contenere allergeni non dichiarati. La confezione del prodotto manca dell'avviso obbligatorio per legge che dovrebbe informare che il prodotto non è adatto al consumo per le persone allergiche ai derivati del latte. Il lotto soggetto richiamo identificato come L30PL3F è stato prodotto presso lo stabilimento di via Piacenza 20. 26.865 San Rocco al Porto e ha come data di scadenza il 24 gennaio 2024. Questo richiamo coinvolge le vaschette da 150 grammi del pesto 100% vegetale prodotto dalla Formec Bifi SPA.